Grazie a tutti Grazie a tutti Ma per forza ma c'ha problemi cerebrali guarda lì è cascato da piccolo E' successo qualcosa di brutto C'aveva la fontanella aperta poverino Questa roba che è? Ma guarda che roba Sì gatta Gatta è niente in vostro posto Stacca laca tutto E' canaio Cos'è? Non so Non so se mangia le monete sto un fame Ok 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 Ma non lo so gatta ma cos'hai miss? Ma che mod hai miss? Perchè ho un fallo? E' un fallo? E' un fallo? Fuggi fuggi Ma fallo venire qua fallo venire qua Ma scusami Te sei pelata e deforme E' un fallo? Io c'ho capito Ma che c'ho scritto? Perchè ci viene fuori me la usa lì? E credo che... Vabbè Alla fine Cos'è? A dove era? Lì Ma... Ti fa domani Ti fa domani Ti fa domani Va bene così Ti fa domani Ti fa domani Ecco! 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 Addio! Sono morta! Ho morto dove è? Addio 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 Anzi saluti E' mio il prossimo cuore eh Che cosa hai? Pia pia Bene Ho capito E' qui va bene vero? Cuore mi serve un cuore Gatta lo sai che sei morta vero? Gatta lo sai che sei morta vero? Hai visto che c'era un cuore per terra Dove? Non è un cuore Quello lì? Non è un cuore che è? No è un guantone cos'è? Un guantone E' un cuoricione Non è un cuore E' un cuoricione Più possibilità di trovare cuori rossi Grazie! Quando sono morta eh! Troppo buono Chi è sta roba blu? Ok Cambiamo personaggio perchè questo è andiamo a fare Questo c'ha c'ha il problema Cosa c'ha? C'ha le turbe questo Che fa? Che fa? Che succede? Le facciamo vinta Scusi eh! E' come lei No questo c'ha sembra quello che sta cagando duro Che c'ha? Che c'ha? C'ha il pezzettone che non esce Stai pure Tutto è dura Oddio che è? Fattevi favore questa faccia? Non ti viene fuori Non ho capito Va bene Eh si Quando non viene fuori faccio quella faccia lì Ah se quindi ti lo dobbiamo immaginare così Ok dai usciamo usciamo dai no 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 dai prendi la carta dai tu tu riparò ven via vintela vintela eh ho capito ma che mod eh morte si quando c'è un nemico la usi eh la userò col boss dai ah ok addio addio non hai il culo però scusi eh mia classe il suo culo caro il mio coglionazzo finalmente avevo un personaggio un po' anomalo io ecco i ragni no sono zecche peggio ah quelli piccini quelli piccini non fanno nulla credo fa un schifo però ma che è che via vabbè state lì è facile questo dai oh bastard ho visto malissimo oh mi mangio cupcake ti dà cosa ti dà cos'è usalo che hai fatto non lo so vai scendi vai c'ho un mezzo cuore dove scendo dove vai un mezzo cuore che faccio che faccio non ti arrendi ma porca le chiavi le chiavi ah ok non vorrei io per te bella merda complimenti aspetta cos'è questo ah no niente niente è da un po' pazzo abbiamo speso due chiavi e una bomba in una stanza che non serviva a niente cosa cosa la bomba eh ma le due chiavi eh ma quello è stato un caso eh è stata un'errata interpretazione dei fatti esatto la moneta la moneta e ho capito sono incorporeo ok dai tanto torni ciao qui ci muori eh eh perf ah si così parlo a Zaratustra qui ci muori eh Gioseppe non lo usci eh Gioseppe Giuseppe è si è ma lo usci ah beh lì sei andato al baretto ieri con lui che idiota ok ho preso un caffè corretto sunbook ok cos'è 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 non so cosa ho fatto va bene lui è Giuseppe il re dei sogni quello che era il VHS in regalo con le Kinder Brioche ma io ti sto anche ascoltando ma era vero era davvero il regalo il VHS Giuseppe il re dei sogni oh mamma mia ok la prossima volta prendo un personaggio normale che era il fratello di 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 Ramses si mi sta ricaricare la barra io prendo sto svinchiato qua guarda va bene tutto fatto male eh perfetto io io sono te io sono te ma più giovane è vero io sono te senza un baffo finto posticcio proprio ma scusami ma questa che mod è per così per una questione di cronaca che voglio sapere ho messo a che è successo? non lo so però hai reagito male alla luce ah ma niente buono ma niente ma che è successo? ma che ne so cos'è sta roba? cos'è sta roba? ma non lo so gatto ma ti metti la cosa a caso te e le tue mod strampalate guarda che città io le devo trovare dai la prossima volta provo quella se scusi eh oddio porca puttana oddio che becca la cosa è la cosa brutta dagnetto dagnetto dai dagnettino vieni guarda a te ma tu no aspetta oddio ah questo video si chiamerà le pessime mod della gattaccia ma te sono bellissime ma fa cagare ma guarda lì guarda un lato aspetta sbagliavo cioè praticamente c'hai Isaac Vittorio Emanuele ma guarda lì ma sei già morto eh? si sono già morto perché sono depresso no ora prendo un personaggio buono dai ma puoi mettere una mod diversa dei livelli ma guarda metto Engie per la gioia di Engie allora questa è dedicata a Engie e con Engie posso giocare pensa a te ho ancora visto? ho ancora visto? ah Engie la mettiamo in squadra con no no eh no con Isaac probabilmente no si no c'è 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 Engie? E cosa mi lanci le bombe stronzo? Dopo come hai tolto un cuore per avermi lanciato una bomba? Ma si può giocare così a sto gioco, dai. Ma qui manca di serietà. Senti come ride con l'altra. Fermati, fermati un attimo, fermati. Ehi. Ci sei? Ah, calmati. Fammi bene, aspetta. Bevo, eh? Quando hai finito di bere devo farti una domanda. Dai. Ci sei? Sì. Devi andare a far la pipì? A breve, sì. Perfetto. Ok, qui. Oddio. Ehm, siamo vicini, siamo vicini. Ah! Sì. Sì, 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 sì. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Dove? Uh, come va lento. Come mai sta cosa? Non so, a me va bene. Va bene. Va lento? Non so, io vedo tipo un rallentatore. Eh. Dopo levo le mod si fa una partita normale? Ehm, sì. Aia. Eh. Aia. Guarda, Angel, che brava. Eccoci. Vai. Signori, signori. Isaac! No. Eccoci. Ti faccio paura. Ale. Sansoni. Ale. Vai Sansoni. Oh, la stanza normale. Che è successo? Va bene. Non so, mod non ce n'è, quindi... Va bene. Eh, va bene. Va bene, ma giocare con il controller è orribile. Sì, infatti. Guarda. Guarda. Guarda, la festa della merda. Oh, no, c'è la... la caccia arcobalenata. Ah. Vabbè. Magari ce la teniamo un attimo da parte. Sì, infatti, non li spariamo, possibilmente. Uh. Allora. Dio. Eh. I ragno... I ragnoidi. Oh, no, guarda. Ecco, i ragni qui li odio, veramente. Sì. Ma anche nella realtà. No, nella realtà no. Mas. Quando entri in una stanza sei invisibile perché non spari. Buono. Sì, tu. No, tutto e due sarà. Ah, che bella che sei. Oh, no. Sei bellissimo. Ok, io entro e faccio sparare sulla testa. Non è un pentadale. Non è molto utile che in coppa. Eh, è vero, eh. Che scuro. Lo stolto. Ecco. Che fa lo stolto? Questo. Sono. Eeeh. Niente. Tutti, eh? Ecco. Ehm. Facculo. Ehm. Che è successo? Ma che ne sono, che c'è due morte? Ah, c'è gli uccelli che attaccano, però. Certo! Mi sono morti. Ma se sono morti. Uccele? Ehm. Boh, non ho proprio il boss, eh. Merdolandia, ci siamo. Eeeh. Eeeh. Guardiamoci, ci abbiamo la cacca a scopalene. Sì. Eh, ma... Prima di andare dal boss. Eh, che cazzo. Mia. Eh, no. C'è un full beat. Sì. Diamo dopo. Io le apro la carta, eh, che non ci salga una sola. Terespoia! Merdola! Che ha fatto? Non so no. È levato un po' Sei ha levato un po'. Dai, 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 dai. Eeeh. ma perché mi vai a prendere la cacca al covaleno la cacca dov'è 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 qua su stanza grande ma spara chi? tu ma sono cresciute mi sono cresciute le palle prima o poi dove l'ha succeduto ho aspettato tanti anni questo che è una mod isaac majin bu si è piccolo e non si prende che pelo ma perché già accelerati a un certo punto che fa la crono è morta non c'è no manca la bomba uno si fa più piccolo piccolo anche te la Q grande guarda bellini eccoci ecco affanculo io vado perché scusa perché hai preso il cuore perché mi ha colpito manca a te c'è colpito c'è colpito pialo 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 no no prendi o te ma tu c'hai un cuore vabbè vabbè ma io lo ritrovo pialo vai ora è il culo non è che ci sono piccoli piccoli ecco a me l'ha preso a fanzo non male che siano piccoli guardi no guarda lì guarda questo esplodono è merdosi te ne sei accorto esplodono sei ok si aspetta aspetta si guardi che c'è due chiavi sprecate si cos'è che schifo gatta che schifo sei una schifezza gatta ma sei gemini perché gemini che schifo abbiamo già vinto abbiamo vinto tutto ma sei pezzinista ma no mi fai proprio schifo con la faccia boom cosa farai cosa farò bella merda anche questa efficace efficace eh te l'ho detto tocca quando la fega però va bene ma più che altro perché fai anche le lacrime rosse quindi sei un po' un incubo si passava su una merda rossa si si va bene mai non è che ci abbia più tanta vita questo fra tutti e due e ride riparte ma fa pipì no che c'è maledizia ah cosa è bello c'è due boss e due porti dorate via c'è di pensare che c'è per me ma magari c'è il cazzo no ho visto che stai sparando c'è vagamente del delirio qua ma magari si esatto ehi oddio cosa ho avvitato cosa ho avvitato voglio il var ma ecco ci godo guarda così e vai adesso oddio ma che cos'è ha fame ha fame ha fame brava bravissima ah se per disgrazia troviamo un cuore tipo ma non sarebbe male ma niente proprio c'è dell'aridità di cuore no dai 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 dice fuori dice fuori sì sì per forza ne ho bisogno oh grazie no volevo dire se c'era ecco l'ho stolto ah ci rimanda all'inizio che bello sei culo cazzo andavi stiamo vicino stiamo uniti stiamo uniti andiamo a prendere il cuore andiamo a prendere il cuore ok c'è gambete corte ma che c'è che c'è che c'è che c'è che c'hanno dato la bomba potrebbe provare la stanza segreta potrebbe essere qua vieni vieni con me prova qua usa bomb ah però era qui sì addio è perfetto piglio la sconosciuta ma che farà già portato a diminuire ma che scuro che c'ho io però che c'è vuoi prenderti eh va bene ma ok paghi pegno po' di fortuna no eh faffanculo mortacci tu in toscana che dice mortacci tu è veramente è veramente inascoltabile monetina 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 infestate infestate ce n'era vero un altro di cuore sì dove era giù giù era giù eccolo guarda la mappa eh giù mio ok scusa mi stai facendo partita a me non ho capito io guida guida io ero anche più pia no ok ma scusa ma se il boss è il duca delle mosche questi qua cosa sono i valvassori i vassalli delle mosche i vassalli delle mosche un mezzo cuore non c'è un pene caramellato guarda le uccisioni murano figlialo figlialo quando sei ferito ti dà un cuore spesso volentieri però il boss ah di su vedrai ci 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 addio 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 mondo porca nooo aspetta 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 vai cos'è aspetta quando veni alpito la possibilità di ottenere l'effetto del necronomium che sarebbe credo che muoiono tutti via la merda via la merda via la merda aspetta 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 ok andiamo abbiamo un discreto quantitativo eh si si potremmo andare a cercare anche la negozio esatto io andrei a cercare no però abbiamo solo una chiave allora no facciamo il balido due relavi eh però andiamo 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 a bossare ciumbia ciumbia che roba lanci le lamette ma ti sembra una cosa legale questo è legale appanculo dammi nella lamette che mi toglie le peri eh niente eh così eh pessima strategia oh cos'è? portata migliorata no eeeh eeeh si, siamo dentro dai, c'è morto, dai meno male, anche posso fare? io non so che hai preso oh, baffaculo, però ma scusa, ma se ce l'hai te, perché ce la devo avere anch'io? eeeh 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 non lo so, eh eeeh e la do... manca eeeh, vabbè ooooh ooooh oi, lo so, no ooooh 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 ok, vabbè io mi sono lanciato proprio l'ignoranza, sono quasi morto eeeh, io no, eh addio eeeh, niente niente, gatta, è stato bello eeeh, è stato bellissimo vabbè, siamo divertiti una partita carina ooooh allora, la visione è retro pure, no? come se non bastasse ho mezzo cuore mezzo, eh ma io ti dico che io credo in te il cuore è tuo bravissimo ho mezzo cuore mezzo è tutto come ci pensi il retro è addio il retro è un classico che non muore mai la se non cuore la se non cuore che mi taglio le penna ohohoho oh dì porca come hai fatto a non morire? NOOO orla eeeh, stavo guardando te ma ho visto quella io con una faccia del genere mi aspetto che adesso do una boccata alla merda adesso immagino animazioni direi che ci tira un morso è bellissimo la faccia grazie